7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 You'll never have the sacred stone Oh this new crazy mother Yeah! Sono a Milano, vicino a Milano Centrale con i miei cugini, cioè le mie cugine e il filanciato di mia cugina e li sto portando a fare un giro turistico per questa bellissima città dato che loro non l'hanno mai città tra l'altro lei mi trasferta, da poco se ne tornerà giù arriva proprio dal sud dell'Italia col furore e ha freddissimo infatti però vabbè, noi la porteremo a spazio e ora stiamo andando al Bar dei Gatti che è uno dei miei posti preferiti di Milano e niente, vi farò vedere qualche immagine Ciao! Ciao! Grazie a tutti. 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 E ci vediamo alla prossima.